ok eccoci qua con un po di problemini ma siamo tornati dai tecnici qua buongiorno proviamo per la terza volta probabile ma ci si crede ci si crede simpatico non è malaccio guarda come affascinante il 9 di un mese che poi mi devono spiegare cos'è il 9 di un mese perché però non me lo ricordo l'altro vedete il culo così blocca cerca 9 di qualche cosa con alo perché vorrei capire cercheremo ma non oggi se lo chiedesse mi sto collegando ci si trova ci vede la twitch da notare un tempo prima sempre i lunghissimi caricamenti andiamo molto fieri sempre questo già l'abbiamo visto anche abbondante tecnicamente sì il bel vermone senza molto carino però non siamo fan di quel tipo di porno lascia mettere anni prima toglie di mezzo quel gruppo meglio non hanno un generatore di scuola distruggiamo per salvare il colore sempre amatissimi sempre lunga vita i gelati sempre qua attimi di perdimento e trova non ne ho la minima idea ero atterrato da qualche parte quel qualche parte è venuto io c'era un bel pavimento solido guarda c'è ancora il mio corpo morto la non so come che la cosa mi spugge quello ci copre tu pure e poi casualmente ritorna in vita mentre uno combatte cioè guarda come ho fatto a morire là poi me lo spiegano e tu sei vivo fronzone che ti rubi le mie armi vabbè sono a posto così non ti preoccupo vedi te l'hanno chiusa dall'altra parte dall'altra parte della camera c'è una porta tu non mirare al mio culo grazie la faccia è più su e dall'altro lato raggiungo questa cosa sorprendente vai sarà più facile tracciare l'icona se io sarò collegata la faccia è più facile tracciare l'icona oh dio un po' facendomi il cucù quando si attiva il ponte a salve è un brutto sempre bello bello da che moriamo affidarci la carissima cortana sempre achievement così 3000 medaglie che non si capisce dove stanno queste medaglie altro solo a te le danno le medaglie non mi sembra esattamente il contrario mi ha fatto un po male c'è tanto la granata è atterrata benissimo dobbiamo fare un complimento qua un'onorificenza ragazzi sei sempre a sparare nel mio culo mi raccomando no c'erano due jackal là dietro li stavano divertendo anche loro e come ti pare il culo quello là dove spunta anche di violenza esatto scappa nella casa c'è un'altra scensura sparare no siamo contrari alle armi da fuoco bene gli obiettori di coscienza abbietto ok la intera una granata in quel gruppetto no come se ci fossi mai fatto uno scrupolo al riguardo sembra proprio non sembra che non sembra ma siamo finta credo di sì prima o poi l'amica nostra dovrebbe così giù grazie io lo chiamerei un salta giù no vabbè noi continuiamo ad andare ok questo è il nucleo dell'alo rotula bene bene tre granate per cent'arte perché i brutti sono delicati sono stati così sì non vincere ah quello sui tu non hai un brutto no non brutto ma non brutto brutto ma non brutto sono più e più piani sempre dietro il mio culo il brutto capo vieni a livello inferiore i marini sono dentro attento alle guardie aiuto mancano il lancio della granata e ovviamente arriva a me è naturale la cosa mi dicono che ora è una red light sono morti, sono morti qua c'è un simpatissimo marini ascoltate marini il cato è accacciato sei voi lui se l'ha fatto non ci sono altre ma dobbiamo salire possibile a livello centrale capo centrale sì altre guardie preparate bello dove fa più male sempre molto utili e molto come nantosi se vuoi ci sono lancia granate come piacciono a te come è che andiamo là sopra da vero dici fanno bene come devono scendere la cosa l'importante è che ancora non è arrivato un brutto chissà quando arriverà lo sappiamo tu aspetti tutti con l'angelo è uno giù e mi è arrivata una granata super di culo e a te ci hanno fatto un bel mi è arrivato un brutto mi è piaciuto va bene così ci riprovi me le lanciano nel culo sai com'è io ho un pugile al plasma li metto qua guarda che bello fuori dal tuo campo di culo e ovviamente dove arrivano le granate dove dove dimmi dove sei un grande amico no rimarino non si metta a parlare se è capitato non abbiamo cosa che fanno lì c'era un'altra non è corbone e ho perso tutte le se sei attraente agli occhi dei brutti non è colpa mia fa la tua bella spada proprio là perché c'era il marine tutto eccitato per la spada capito oh cazzo vai ride vai ride quello ero io non un brutto sono un po diverso è un po più brutto diciamo il mio era morto e quello era mio mi raccomando non sbagliare mai la mira perché perché no grazie simpatissimo giacca non sono più in grado di garantire la sicurezza dei profeti che hanno messo a rischio le nostre vite momento che ho sei munizioni nessuno dimentichi il giuramento con la fede saremo sicuri fino al sentiero noi commettiamo che appena arrivo mi arriva un colpo di hunter in faccia vedi arrivo io cazzo c'era un altro non me l'aspettavo il secondo arrivano sempre in due ma il secondo non me l'aspettavo qui perché mori tu qui sempre ricordati ora dove sono i miei fuggilecchi al plasma pronto ah sì questo posto dove non so più dov'è che si va un momento intanto c'è un po' di gente con io eeeh ok ti posso seguire ok perché ha ripreso un pochino se l'ho ucciso non devo fare l'ho preso a spararmi ma di davanti che chiedo io dai che boba fest Di molto boba Come già è successo è molto male Qua siamo un po' arrivati Questa salita spuntava da qualche parte Sì, di qua Allora, si deve accendere Ovviamente Tu è l'artiglieria pesante Chi sa Non ti spoilerò niente Certo di non morire qua E di non fare crashare il gioco Mi raccomando Ma dovete provarci anche l'Xbox Xbox ci prova sempre Non ti preoccupare E poi sono io quello che passa davanti Ho visto un po' di gente volare Aspetta, aspetta Non funziona Io sono... Mi piace l'Alo, volevo abbracciarmi Come me? D'altro ce n'è uno dietro il coso Vorrei dirtelo Ce n'era uno pure dall'altro lato Non so, era qua dietro Evidentemente Ma a questo punto Ma non lo so A uccidere me probabilmente O c'è Boba Sempre simpatico Molto simpatico Si, ecco lo mi fa abbracciando Guarda un bel colpo qua che non ce lo togliene No, purtroppo la vista Carino Sempre costi Sempre costi Grazie Grazie La valorizzazione La valorizzazione l'ho metto da qui sempre che mi arrivano da dietro fingendo sono bello da vedere la spada che spunta da nulla e si muove da sola e rimane a saperlo solo lui io non lo voglio sapere più di tanto quando mi scommettiamo da qua e da dove siamo venuti ma perché riciclano le mappe qua si può capire bene che gli secca e lo vogliono fa se c'era un gruppo del corso di mare oggi è tutta e spari non ho trovato più 10 minuti a cercarlo poi riapparso va bene tu continuo a stare così vicino a me con la spada in mano eh racconto grazie stai mirando una spada ma forse è appena una volta una volta l'ho hanno giuda Oxford friduliato una volta il gergo di Oxford Aspetta, ma da la sinistra che c'è Io Che ricano Oddio Bella granata Sempre utile Sempre E per fare che cosa non si sa Tre colpi un morto, com'è il fatto? Ovviamente Del tutto merito mio Certo Oddio sei stato tu Tutto merito mio E vogliono conoscerti in maniera Le esplosioni Così Cos'hanno fatto Non lo voglio sapere Anch'io guarda Ho sentito certo Un po' di dolore nella parte posteriore del corpo Ma non lo voglio sapere E la la Gli ha femmo o non gli ha femmo? Non gli ha femmo per te Un simpatissimo grunt Quella iconica è messa Facciamo così Facciamo così Facciamo così Adesso abbiamo provato una volta Non ce l'hai fatta Non ce l'hai fatta Non ce l'hai riuscita Come viva Si Proprio quest'uno è morto Che cosa ci c'è? Non lo so Certe volte me lo chiedo anch'io Sombra ci sia qualcuno che ha un simpatico cannone a combustibile Proprio là sopra E sono accorto ORA Coccane Coccane Facemi dire Coccane Lei che aveva il caro fucile da cecchino Si devo riferire a riprenderslo Perché non esplosò un po' là sotto E allora Spaliamo di nuovo Credo che tu ti coltivi i fucile da trap Ma non è che li trovi Io ho le piantagioni Va Eiii E' bello come io impieghi un quarto d'ora a capire che sono delle spade volanti E poi il caro Eh Eh Suo nonna Suo nonna Suo nonna Suo nonna Suo nonna Buono 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 Qua c'è una legione Un po' c'è uno E' un po' c'è E' uno Che è un po' c'è E' uno Possibile i cazzetti non ho paura di usarlo sì perché sono sei colpi ma vabbè ho un paio di elite che facciamo uno là non so se l'ho ucciso l'altro oppure il nascosto là dietro no era uno con uno spasmo della morte sì sempre sto bellissimo il respawn ma va evita di sparare dentro il foso perché se no spari anche a me no fortunato però mi ha preso una granata cioè il magnete la tira granate al plasma quando è una cosa che fa un attacco ad aria così di giustezza lo chiamavano chirurgo e purtroppo non conoscevano il significato della parola ho altri otto ora ora me li faccio bastare tranquilli dobbiamo trovare una scossa che quasi quasi mi stava prendendo qua ci sono un paio di elite che facciamo bravo raga mi hai fatto una minchiava no adesso non ho vinto di sì ah pozioni ah sì che prenderli in volo con la spada no con la spada no ho temuto per un attimo che quel colpo fosse dirosso all'elite dal mio lato per fortuna ultimo colpo chi se lo preso? due e non muore in te ora è morto un po' tanto è morto ah niente fucili grunt da queste parti fucili grunt fucili brut ovviamente bene potresti cercare che vorrebbe dire uccidere come brut te e me aia non muore con tua spada io muoio contro la pasta tu la palla aspetta c'è il brut il brut che stai ne sta occupando facci pensare lui no ma voglio giuro a fare un duro duro ora mi chiedeva neanche la spada era così per dire uno è morto e due sono morti questi sono i simpatissimi brutti i brutti 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 rinforzati dico riflettici un po' diciamo quando non ci sono brutti in giro va avranno bisogno di te di qua a capo di qua libera 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 facciano i geriatri prendere l'icona o indice e vediamoli uno in ogni phantom le speranze dei covenant gravano sulle tue spalle capitano la mia fede è salda non fallirò il grande viaggio non attende nessuno nemmeno te simpatico abbiamo finito un livello il livello più lungo nella storia di Halo abbiamo pure battuto il punteggio parziale lo sapevamo in memoria mi pare pure logico anche il tempo forse vediamo gliel'abbiamo fatta questo è l'importante vediamo cosa arriviamo a fare nell'ultima mezz'ora forse potremmo finirlo e se corriamo anche due uno quasi sicuramente 25 minuti non ti carica due di video secondo me li coltivi si e anche larvi se ci buttiamo facciamo prima secondo te poi mi lascerei da solo l'abiett inutare il caso e tu coltivi spade invece e Oh no! Oh no! Ma è spadato il mamma! Stendi però tu! Continuando! No! Tu invece di fare lo stronzo perché non hai io? Questo non sono io sappilo! Anche banche! Eh! Sono imperio! Sono grande! Sono amico! Ma che mi sparano? No! Perché veramente non sono tanto amichevoli! Che ti posso dire? Ancora diciamo... Sì! Sì! Oltre! E non vogliono sapere perché! L'importante è che lo facciano! Non è che era un uovo di brutto quello che hai lanciato! Non è che era un uovo di brutto quello che hai lanciato! Sì! No! Purtroppo per ora non le coltivo! Proprio lei! Non è che mi piace quando mi si silura in faccia il caricatore del... E' troppo figlio per essere te! Vero? E' andato con la spada! E' con un altro! Coraggiosissimo! Proprio non io! Troverai tutta la parte dell'ammazzare quello! Io continuo a non trovare armi! Sì! Sono con due peccini fissi e piccoli! Sempre così! Sempre così! Io bravo questo... Eccolo là! Morendo! Io mi sono schiato proprio quello! Poi l'altro ha starnutito probabilmente! E quello è letale! Scusa mai! Vicevamo! Ah no! Sarà chi l'impatto! Era un brutto camicazzo! Sono un po' tanti o sbaglio? Uno zin zin! E siamo senza armi! La cosa peggio è che questa! Ah! Tu sei un amico! Vabbè! Certo che te la dai! L'arma purificatrice! Eh! L'arma purificatrice della sorella! Però! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Non lo so! Continuo a esposare cose per un vero motivo! Non si aprono porte! Sì! Non si aprono da nessuna parte! Sì! È mia! Non c'è una minchia dentro! Sì! 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 Ne faccio bastardo! Dai! Sì! 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 È segnato pesante! L'ho pesante! Sì! Lo fermo! Farò una pazzia! Fallo! Fallo giù! Prendo quel lanciagranata e io lo sbatto in faccia! Dov'è! Dov'è! Sì! Sì! Dietro il mio culo credo! Ho l'impressione che fosse proprio là! Sì! 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 Dice! Aspetta! Non ho preso troppi danni! Dovrei morire! E ha deciso! Sì! 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 Ci sono altri che muovino dopo 50 colpi! E poi si rivoltano! E non crampo! Si devono muovere un pochettino in schinni! E sei più le? Quello era più o meno un amico! Vorrei ritrovare! Ma sono tutti quelle che si spano! grunt sono amici non cibo di quanto tembilo piccoli a che ti costruisco non io sto morendo è un'arma a doppio taglio esatto proprio così si toglie salute per darla per fare danni a loro poi posso ritardare mi ha appena esploso un brutto davanti non so perché sono ancora per una volta io che ho un'armatura contro le esplosioni veramente eccellente adesso mi piace di più potete inventare trasporto nel tuo culo oh oh la violenza signori la violenza che lui è impavido l'ultrofisile brutto no eh effettivamente c'è un paio di vitti in più poi io vada 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 via bomba ma che bianni nel secondo il mio progetto è imparato imbottiscono i tritologi ce l'ho fatto quello è un amico ricordate io volevo la mia scuola ora se volesse venire qua da che parte la moto ma perché il tuo culo è incollato in faccia ci lo fai dati delle domande dati delle risposte io intanto muoio c'è chinato da praticamente freccia verde di palco probabile un incrocio il mio ghost che affotta senza un vero motivo e muoio muoio non mi chiedere come ma muoio tutto questo perché ho attaccato il bruto ho sbagliato esatto ma vogliamo mettere quel cazzo e c'è chi no da sol ti sto sparando ora ora ma quello sembra che non gli interessa niente continua bello tranquillo è morto non ti preoccupare ora è morto questa è una cosa bella peccato che non sei morto cazzo cazzo hai fatto per capire mi hai sparato con uno spesso capisco che è una tentazione scorsa però è una cooperativa cazzo dici e in qualità di cooperativa che cosa mi vuole dire la chiudono un paio di altri ghost proprio non portiamo il rancore raccomando fina cosa io sono salito e sono cappottato mi interessa ma se volessimo tirare dritto e tu prendere che so i ghost le dispiacerebbe invece di stare qua che sembra che spawnino all'infinito lasciane uno cazzo prendi l'altro è pure di un amico sta per esplodere prendi e c'è guarda e li vado pronta probabilmente tutti i trascorsi si lo sono e te li fai esplodere di davanti e là ce ne sono un paio prendite non è per uno nuovo va oh caff si valga e ora ci diverti accetto mi ero più o meno scantato mi ero presto che scantato e me ne arriva pure un'altra così così qua io sono mezzo inutile questa gioca sale o mi prendo un ghost che dico sta per esplodermi in faccia ma intanto cerchiamo di farmare farmare prendere un po' di esperienza ora ma che dopo ho tuttissimi sempre dopo se mi ritrovo sulle ripide io ho quello che non sapeva guidare si tu non sai guidare ma io ho un veicolo tremendamente agile in qualcosa che sembra l'erripide l'erripide e rapide ah no no? poi io mi sono specializzato a guidare i walk ho la patente umana non quella comena abbiamo avuto tanta paura arrivano granate come se piove che fai? io ho baciato un paio di bruci tutto per me la granate perché quello ci metto io questa ancora resiste non so come prima o poi ci esploderà tutto il futuro ovviamente io guido cecchino morto un cecchino più o meno morto guarda come cappottiamo di nuovo ole dai che siamo ancora qua non mi chiedere come ma siamo qui ci sta provando qui cerca di sparare si e là ci sono un paio di vretti secondo me ne vado a prendere uno vretti proprio qua davanti scendi volai tu prendo l'altro un po' non che impavitamente vada a prendere un re impavidissimi commessa che non si può continuare con il break ed è quello che va per portarmi con sé sono l'istato male se ti sposti e furbone ti danno cose così a gratis ma io credo in te 2 granate in patica simpatiche ma no grazie ma no grazie sono io quello che li coltiva raccomando che io stavo prendendo una visto no ma lei vi hai visto ok silurano gli elixi dall'alto in cazzo però non è lì in cazzo a 200 milligrammi ehi anche a me faccio un fucile a combustibile se ti può interessare ma a lui mi interessa ancora di più dov'è qua no la sul tavolo appoggiato nel tavolo questo tavolo io che mi prendo non so come arma secondaria che me posso p io prendo il fucile a cecchino così senza un vero perché però quello più caro non è molto consigliabile tre colpi da tre colpi so brutto ma brutto brutto forti 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 l'ora e che vogliono portarti con loro qua proprio qua ed il tuo corpo morto ma il morto male intervito ma noi lo prendiamo così prenderò il lanciagranate mi sembra un paffonano continuo a sostenere che sono fabbricate a pechino queste però poco ti esplodono in mano non ti preoccupa è il rischiato di lanciarmi una granata in faccia te lo dico non che io non ci sia abituato però mio per gli anelli arbiter i membri del concilio uccisi sono stati i brut e rivesti e traditrici i profeti sono stati pazzi a fidarsi nostri amiche e balzarò più ovviamente abbiamo fatto hai visto te l'ho detto te l'ho detto in dieci minuti ce la facciamo e poi iniziamo troppo è giusto poi alla prossima quando faremo mezza missione due in una giornata stiamo migliorando stiamo migliorando soprattutto non ci siamo uccisi troppo avvicinati hai visto una volta tu stronzone però è una tu no è stato solo un caso mi hai chiesto di fermarmi e mi hai tirato una granata in mezzo alle scapole quindi non fermo certo dopo qualche lo vogliamo tu a me quelle ancora la sport farsero con calma sulla terra per finire quanto iniziato non gli stacchiamo il futuro uno di voi ci salverò quella struttura al centro della città è una nave dei precursori e verità si dirige verso di essa se guiderà la flotta sull'obiettivo la terra non avrà scarpe lo devi fermare quel brut all'indice e miranda e johnson può attivare l'anello uno dei pochi più brutta deve essere cresciuti con l'indice l'esplosione distruggerà la città e l'anello non molto originale ma almeno sappiamo che funzionerà non tutti quattro dita no non posso rischiare una detonazione a distanza devo restare qui stiamo cominciando vabbè salutiamo i ragazzi salutiamo le abbiamo salutati alla prossima complimenti ci vediamo alla prossima ci ha dovevo dargli un saluto degno di questo nome no ci stanno ancora ascoltando lo so lo so bene grazie a tutti